Dopo Torino e Milano vi sarebbero altre città italiane a candidarsi per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026. Nella trasmissione L'Italia nel pallone di Radio 2 il presidente del CONI Giovanni Malagò ha confermato che per i giochi del 2026 c'è un interesse diffuso, una competizione interna, ha detto. È quindi probabile che non siano solo due le città italiane che hanno manifestato, in un modo o nell'altro, un interesse ad ospitare la più grande delle manifestazioni sportive. Ottenere il pass olimpico per Torino non sarà quindi semplice. Se la città sotto la mole ha il netto vantaggio su tutte le altre di poterle ospitare a un costo inferiore, avendole già organizzate e disponendo di tutte le strutture e le esperienze organizzative necessarie, è anche vero che secondo la carta olimpica, e cioè l'insieme delle regole e le linee guida per l'organizzazione dei giochi olimpici, l'Italia non potrebbe ospitare i giochi. Motivo? Il 10 settembre del 2019 sarà proprio a Milano la sessione decisiva del CIO in cui si assegnerà l'organizzazione della manifestazione. Secondo il regolamento olimpico, infatti, il paese ospitante non può presentare una propria candidatura. Ma una strada percorribile resta. Secondo la stessa carta, la sessione olimpica, e cioè l'Assemblea generale dei membri del CIO, suo organo supremo, adotta, modifica e interpreta la carta e le sue decisioni sono definitive. Quindi il regolamento può essere modificato e per farlo ci sarà una sessione aperta il prossimo ottobre a Buenos Aires. La deroga, se applicata, spalancherebbe le porte dell'Olimpo all'Italia e quindi anche a Torino. Ma, come appare ovvio, una candidatura è tanto più forte quando un governo nazionale la sostiene. E se il prossimo governo avesse l'appoggio dei 5 Stelle, Torino sarebbe difficilmente scavalcabile da altre città. La sindaca, Chiara Appendino, ha inviato la lettera con la manifestazione di interesse al CONI e, superate non senza difficoltà le resistenze interne, ora non le resta che attendere gli sviluppi politici sul piano nazionale. L'attesa del CONI per la definizione della candidatura appare orientata proprio in questo senso, scegliere la carta migliore e per farlo, dice lo stesso Malagò, occorre una valutazione serena.